Mi chiamo Sanja e vengo da India, la mia città è Calcutta. Lo sapete dove è India? In Asia. L'arba freddata, però c'è ancora più antica dell'arba, che si chiama ancora. Piacere si fa conoscenza, strumentisti e strumenti, voci che vengono da lontano, ma che in un luogo simbolo come Piazza Vittorio a Roma hanno trovato una casa comune dove si condividono melodie e armonie, ma soprattutto tradizioni, storie, gusti. E allora, basta schioccare le dita e i ragazzi si lasciano coinvolgere nel gioco lieve, capriccioso e sublime della creazione artistica. Portare le musiche dei popoli nelle scuole è la più recente iniziativa dell'orchestra di Piazza Vittorio, attiva oramai da molti anni a Roma in svariati ed eterogenei ambiti creativi, segno efficace di come dialogo e contaminazione tra mondi siano la chiave di una convivenza fruttuosa per tutti. Nel tempo abbiamo un po' trovato un codice all'interno del gruppo, ognuno è protagonista della propria canzone, ma è protagonista anche delle altre canzoni e così capita facilmente che un musicista arabo possa suonare una canzone brasiliana e viceversa un musicista sudamericano possa suonare un brano tradizionale africano, partendo sempre da un'idea che è quella di ascoltare. Così come nella società bisogna ascoltare le persone, anche in musica bisogna ascoltare gli strumenti. E poi si scoprono inaspettate parentele anche sonore, in altre culture lontanissime. Esatto, quello che vogliamo raccontare è questo, cioè come da uno strumento nato magari più di duemila anni fa si arrivi agli strumenti elettrici e come ci sia un filo che comunque lega la storia degli uomini e la storia degli strumenti musicali. Un'esperienza locale questa, ma sicuramente replicabile ovunque nello stivale e che può diventare un primo strumento per una diffusione diversa, più accattivante e coinvolgente dell'educazione musicale in un paese che ne ha assoluto bisogno. Noi vogliamo che i ragazzi che vivono in una società decisamente molto più multietnica di quella in cui noi stessi abbiamo cominciato questo percorso si rendano conto che è possibile condividere un percorso con degli stranieri ed è possibile permettere a delle persone che cercano fortuna in questo paese di esprimere il loro talento. Noi ci auguriamo che questo esperimento possa diventare un esperimento da esportare su scala nazionale. Chiediamo per l'appunto alle istituzioni, ai ministeri competenti che abbiano un occhio di riguardo per questo tipo di iniziative. C'è tanto parlare sulla mancanza di studio della musica nelle scuole, su quanto poi lasciare l'insegnamento della musica a Fran Martino suonato col flotto dolce sia un po' un limite, che poi non faccia sì che questo paese abbia un ricambio degli artisti. Il nostro è un piccolo contributo, chiaramente è una goccia in un oceano, ancora tutto da esplorare. Vogliamo dire alle persone, al ministro, a chi organizza le scuole che ci vuole più musica dentro le scuole? Sì! Ci vuole più musica! 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 Ci vuole più musica!